Sulla strada, la condizione per le strade in Italia perché per le ultime quattro ore sono stato in macchina dunque io posso dirvi dove ci sono le tempeste e dove c'è il traffico c'è il traffico ed è per tutto in Italia oggi Fa niente Mica, tu puoi tutto Come diceva Fiorello in collaborazione con Anas Allora Mica, noi ti aspettiamo ovviamente in studio appena riesci fatti vivo, sgasa senza paura tanto ormai conosci l'ambiente, stai tranquillo che qui Manuel ha avuto solo belle parole per te Ludovico, belle parole, tutti hanno parlato bene Solo Emma ha detto, sai, è abituato lui a fare un po' di ritardo però ti vuole bene lo stesso Ah grazie, sbagli tanto Figurati, figurati, bene, torniamo tra pochissimo Giusto, per me ne ho subito un po' di tizzania Un bimbo ragazzi Mi ha anche iniziata questa stagione di X-Facts Noi torniamo tra pochissimo sempre con Ludovico Tersini, con Mica e con Manuel Agnelli A presto, ciao A presto, ciao Grazie per la visione!